Ciao Alefranza, io sono Cristina d'Avena, ecco qui un gioco! Kiss me, kiss me, lì ciao, sono affezionati, ti innamorati, passa scusa. Allora, carissimo, io per me non lo riconosciti, allora ti do una cortesia, dimmi stop quando vuoi tu. Stop quando vuoi tu. Non può essere la cortesia, che vuoi? Questa qui? Ok, adesso tu stesso non farla vedere a lui, memorizza la carta. Ce l'hai? Non si può, adesso per l'ospetto. Ok, mescoliamo le carte che non pensi che... Tutte mescolate, vuoi mescolare tu anzi che magari pensi che io manipolo, giusto? Sei d'accordo. Io sono mezzo in bocca, non si può. Sei d'accordo che le carte sono mescolate, ci sarà dentro qualche parte, giusto? Per un effetto di mentalismo reale, sei stanco, ti capisco, guardami bene, non mi dire niente di queste cose che ti dico. Nera, rossa, rossa, nera, nera, rossa, nera, rossa, rossa, rossa 97%, confermi? Un giorno quasi più. Confermi? Non mi dirò? Sì, spero. Grazie.